Un involucro in cellofan contenente circa 40 grammi di marijuana e un tritafoglie necessario al confezionamento degli spinelli è quanto hanno trovato nascosto nell'abitacolo di una vettura i carabinieri della compagnia di Bobbio. L'auto era condotta da un 24enne piacentino fermato nei pressi di Gossolengo per un normale controllo. Il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La stessa sorte è toccata a un 46enne operaio di Gossolengo notato dai carabinieri per il suo atteggiamento insofferente agitato. La perquisizione ha permesso ai militari dell'arma di trovare celati in un taschino del suo giubbotto un involucro contenente ben quattro dosi di eroina e una dose di cocaina. Gli ulteriori controlli condotti tra gli ambienti giovanili hanno permesso ai militari di Rivergaro di segnalare per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale quattro persone di età compresa tra i 30 e 40 anni controllate in zone isolate dei comuni di Gossolengo a Rivergaro trovate in possesso di 4 grammi di hashish complessivi. Sempre nel corso dell'ultima settimana i carabinieri di Rivergaro hanno proceduto al controllo di un 47enne di origine napoletana con diversi precedenti a carico per reati contro il patrimonio. È stato sorpreso sulla strada regina di Gossolengo nell'atto di proporre ad alcuni operai la compravendita di alcuni attrezzi del lavoro come motoseghe e altri strumenti di dubbia provenienza. Dopo gli accertamenti di rito i militari hanno denunciato l'uomo per i reati di ricettazione e commercio di prodotti consegni falsi.